Adesso Ma perché? Dai Kiko, vai Kiko Eh 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 Vamo Kiko, vamo, vamo Padre Kiko Adesso ti da la mina Ti da la mina adesso Huni Ok, ok Vamo Kiko Vamo Kiko Vamo Kiko Quando me toqué era para preguntar Vamo Kiko Vamo Kiko Vamo Kiko No, no vienas No, no, no No, no, no No, no, no Vamo Kiko Bene, bene. grazie a tutti grazie a tutti